building a gennaio 2020 ha inaugurato la mostra materie spazio e visioni un progetto espositivo dedicato a tre artisti soffico valeri krause e marco andrea manni tre progetti differenti ognuno su un piano della galleria soffico al piano terra marco andrea manni al primo piano e valeri krause al secondo piano gli artisti hanno avuto così modo di sviluppare delle opere size specific pensate proprio per l'architettura dello spazio e opere inedite create appositamente per la mostra in occasione della mostra verrà realizzato un catalogo e diversi sono stati i contributi critici primo fra tutti quello di giorgio verzotti mi è sembrato giusto sostenere il lavoro di questi tre artisti che pur lavorando tecniche tradizionali come la scultura la pittura e anche la fotografia riescono a farlo in un modo innovativo e anche associando a queste pratiche dei contenuti dei significati interessanti gli artisti hanno scelto con chi confrontarsi per il contributo critico dedicato al loro progetto andrea pinotti ha scritto su soffico giuola bortoluzzi su valeri krause e francesca pasini su marco andrea magni